Ciao Gossip News Una volta che noi ci vediamo tu hai cambiato look Non partire da qua Come faccio a non partire da qua? Stavolta è definitiva, veramente Ah si? Si perché erano rovinati I passaggi li avete visti tutti Vi mancava il nero blu dell'ultimo film che ho girato Quindi dopo quello i capelli mi hanno detto Lasciaci andare Sì, li ho arrasati perché adesso sto girando tutti i pazzi per amore Ho la parrucca e quindi Come ti si trovi con questo? I pazzi per amore Lo sappiamo, lo sappiamo, è la più brava Ma come ti si trovi con questo nuovo taglio? Che ti ha detto il fidanzato? Schissima, con i 40 gradi guarda la cosa è un migliore Ti infili sotto la doccia, lavi tutto In tre secondi sei asciutto Io potessi tutta la vita così Addirittura? È comodissimo Da un punto di vista pratico è perfetto